L'11 di marzo a Raffadali si è svolto il congresso provinciale dell'Ampic, è stata la riconferma alla presidenza da parte sua? Sì, abbiamo svolto questo congresso che è stato un momento importante, naturalmente stretto nell'ambito di un pomeriggio, con la presenza della segreteria nazionale dell'Ampic, c'era Vincenzo Calò presente, numerosi sindaci della provincia di Agrigento e gli iscritti dell'Ampic che ad Agrigento fungevano da platea delegata, avendo noi un numero limitato di iscritti. Abbiamo riflettuto sulle questioni della pace mondiale, dell'Ucraina in maniera particolare, del nostro sostegno a questo popolo che in questo momento sta affrontando questa invasione criminale, possiamo anche dire così l'ho definita. Io abbiamo parlato della ricostruzione dell'Ampic in provincia di Agrigento, di un salto organizzativo che dovremmo fare e abbiamo anche programmato un'attività che riguarda il futuro, nel senso di riscoprire la memoria della resistenza e di parlare anche del futuro dell'Italia e dell'Europa in questo periodo. Noi siamo per una pace che non sia fatta di riarmo, non bisogna, si visse pace me para bellum, cioè prepara la guerra se vuoi la pace, invece la guerra ha portato sempre alla guerra. Noi seguiamo le indicazioni che sono quelle del Papa in questo momento, che dice che bisogna lavorare per la pace perché non ci sia questa guerra mondiale, a pezzettini che in questo momento si sta facendo, perché non si vada al riarmo e invece si correggano gli equilibri al ribasso perché cresca un grande movimento per la pace e che questo movimento per la pace sia accoppiato, unito al movimento per la salvezza del pianeta. Quindi è un grande movimento ambientalista che è anche un grande movimento contro la guerra. Noi siamo perché venga applicata la Costituzione italiana e l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Su questo pensiamo che bisogna fare in modo che la legittimità internazionale venga rispettata e che gli organi internazionali in cui si associano le nazioni, parlo dell'ONU che deve cominciare a prendere il suo posto, anche dell'Europa, che debbano attraverso la democrazia lottare, premere perché ci sia il cessato del fuoco in un'Ucraina e che sia raggiunto un accordo che possa garantire la pace. In ogni caso la sospensione delle ostilità per la salvezza di tante vite umane.